Com'è andata? Oggi bene, tutto bene. È una novità, quindi un po' di emozioni sicuramente c'è. Trovo bene, stiamo meglio. C'è stato anche un applauso, te l'aspettavi? Sì, no, non me l'aspettavo, però è molto piacere. Senti, più emozionante qui o un esame all'università? Sì, l'università è un'emozione inversa poi. L'università è magari un'ansia, qui è proprio emozione. E' un'ansia. Senti, ti faccio una domanda. Tra cinque anni, cosa vorresti aver lasciato in questo Consiglio Comunale? Allora, sicuramente il mio obiettivo principale è quello di rispondere alle esigenze dei giovani. Perché io credo che i giovani non hanno un punto di riferimento vicino a loro. Quindi io mi propongo come appunto di riferimenti e vorrei uscire a, diciamo, aiutare i giovani e le loro esigenze. E non solo, perché io sono, insomma, sforzata per arrivare dove sono arrivata, non solo per essere un intervento per i giovani, ma anche perché credo che sia una questione di responsabilizzazione. Nel senso che è giusto che noi ci mettiamo in mezzo a ciò che si riguarda i primi, su quanto si riguarda i primi, su quanto si riguarda noi e noi ne rimaniamo ali fuori o non ci interessiamo di questo. La prima proposta completa che farai? La prima proposta completa che farò è sicuramente lavorerò molto su quanto riguarda il centro storico. Perché io credo, sicuramente, che deve tornare ad essere il tutto della nostra città. Io poi ci dico che è il centro storico e lo frequento ogni giorno e quindi sicuramente lo prendo. E poi la sicurezza. La sicurezza e il turismo. C'è una sicurezza che mi vorrei spermare qui. Grazie. Grazie.